Nonostante che ti abbia sposato Eh va bene Come Isabella e come tutti gli amici Ho mai mangiato in un ristorante E invece È crudo ancora Adesso ho usato i mezzi rigatoni Signora lei può fare qualsiasi Ci può mettere pure il couscous Lato pomodorino, capperi, acciughe Basilico Ognuno di noi dovrebbe mangiare Cinque mandorle al giorno Finger food Ok Finger food Giancarlo Io li metto qua Vai vai Per cercare di fare contenti un po' tutti Ma non è che serve a togliersi Foto No è buonissima Dove sta? Dove sta? No è buonissima No è buonissima No è buonissima